Musica Sbarco profughi a Margherita di Savoia, notizia passata sotto traccia ma anche le coste pugliesi sono punteggiate dagli arrivi di migranti. Scuola digitale, progetto Gelmini Brunetta, connessi in rete l'80% delle scuole italiane, sono fruibili per prenotazioni, iscrizioni e molte altre attività educative, i servizi proposti. Manifestazione di studenti a Roma, l'iniziativa in contemporanea con altre 50 città italiane si è tenuta al Museo di Arte Moderna. Vittime dell'amianto, giornata mondiale per ricordare le perdite umane provocate dal pericoloso materiale, l'appuntamento per il 28 aprile. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Potrebbero essere molti di più ma ne hanno contati 45, altri forse sono riusciti a far perdere le tracce. Si tratta di migranti sbarcati dalle parti di Margherita di Savoia, sono di nazionalità egiziana o tunisina e vagavano senza meta alla periferia del centro pugliese. Molti di loro sono minorenni e hanno raccontato ai carabinieri che li hanno intercettati di non mangiare da quattro giorni. Tutti i loro vestiti erano frandici, molto probabilmente sono stati abbandonati dagli scafisti sulla spiaggia della Fiumara, a pochi chilometri da Barletta. Ma vediamo il servizio. Sarebbero egiziani e hanno detto di essere arrivati a bordo di due gommoni. Sarebbero stati lasciati lungo la Fiumara e da soli sarebbero arrivati a piedi a Margherita di Savoia. Ricordano di essere arrivati in 70, ma per le forze dell'ordine sono 47. Mancherebbero all'appello quindi circa 20 concittadini, di cui al momento non si hanno notizie. Quel che è certo è che ieri pomeriggio, per le vie di Margherita di Savoia, intorno alle 18.30, girovagavano alla ricerca di aiuto di cibi e vestiti circa 50 ragazzini extracomunitari, tutti minori e di sesso maschile. In quel momento al parroco della chiesa ausiliatrice Don Matteo Martire è arrivata una telefonata da parte delle forze dell'ordine che segnalava la richiesta di intervento per aiutare questi piccoli ragazzi. Sono stati tutti accolti nella palestra della scuola media Giovanni Pascoli della città, dove i volontari della Caritas e di altre associazioni cittadine hanno portato tutto ciò che poteva essere utile in quel momento per rifocillarli, vestiti puliti, coperte, scarpe e cibo. Poi in serata sono andati a Foggia, in questura, per l'identificazione. E nella tarda mattinata di oggi, in attesa che venissero individuate altre sedi idonee per accoglierli, sono tornati a scuola per il pranzo. Ci siamo subito attivati per risistemare tutta la situazione. Grazie al volontariato, grazie ai garabinieri che si sono subito intervenuti, alla Guardia di Finanza, che hanno fatto un'opera eccezionale, siamo riusciti a immaginare l'emergenza con una situazione che era ingestibile perché erano tutti quanti minori. All'inizio sembravano che quasi tutti e 47 erano minori, poi successivamente tramite un interprete che risiede a Margherita e siamo riusciti ad identificarli e capire che 26-27 erano minorenni, gli altri erano maggiorenni. Quindi successivamente, una volta rifocillati, li abbiamo rivestiti perché erano bagnati, scalzi, quindi presumibilmente sono stati sbarcati proprio da qualche ora. Dove sono arrivati loro? A detta loro sono sbarcati alla fiumara perché quindi sono arrivati con una motonave, l'hanno detto, poi con dei gommoni li hanno sbarcati sulla spiaggia. Quindi dalla fiumara sono arrivati a Margherita da soli? Sì, sì, poi a piedi da soli e quindi le pattuglie presenti sul territorio sono riuscite ad individuarle e portarle poi. In prima chitto l'abbiamo portato al campo sportivo per avere un po' una sistemazione logistica e successivamente abbiamo individuato la palestra anche perché era coperta e poi l'abbiamo riscaldata e li abbiamo rifocillati. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta e il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Maria Stella Gelmini hanno illustrato lo stato di avanzamento del processo di digitalizzazione della scuola pubblica italiana. Il piano si chiama IGOV 2012 e individua infatti la scuola come uno degli ambiti prioritari per l'azione di digitalizzazione e diffusione dell'ICT. Il relativo programma di azione è stato attivato con il protocollo d'intesa che i due ministri avevano firmato il 30 ottobre del 2008. Ma vediamo il servizio. Parte tutto a tappeto dal 9 di maggio. Noi pensiamo che per l'anno prossimo, quindi da settembre, ci possa essere già un congruo numero di scuole. Noi speriamo 5.000 entro quest'anno, 5.000 scuole dotate di wifi e poi il wifi tira dentro altre cose. Quasi l'80% delle scuole oggi già utilizza la posta elettronica certificata. Contiamo dall'inizio del prossimo anno di rendere la PEC, la posta elettronica certificata, accessibile a tutte le scuole italiane. Vi è una particolare innovazione per quanto riguarda la chiamata dei supplenti. Fino ad oggi il tutto avveniva in maniera arcaica e faraginosa attraverso i fonogrammi, i telegrammi, con un grande dispendio di risorse pubbliche e di tempo. D'ora in avanti la convocazione dei supplenti sarà effettuata esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata. Pensate, questa nuova modalità ci consente un risparmio di 20 milioni di euro annui che potranno invece essere utilizzati in maniera diversa per la qualità, per la didattica e non utilizzati in maniera così arcaica come avveniva fino ad oggi. Dal prossimo anno scolastico cominceranno anche i pagamenti online, ovvero tutte le scuole avranno la possibilità di gestire qualsiasi pagamento sui propri conti correnti postali e avere la visibilità dei versamenti effettuati dalle famiglie direttamente dal portale. Questa è una rivoluzione perché ad oggi evidentemente i pagamenti avvenivano in maniera assolutamente diversa. attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie fra pagelle digitali, certificati digitali, iscrizioni e pagamenti, il risparmio complessivo è di 118 milioni di euro che sommati ai risparmi, cioè che non significa pulire meno bene le scuole, significa evitare di appaltare all'esterno servizi per una quantità superiore al necessario, ebbene dalla riduzione degli appalti esterni avremo un risparmio di 300 milioni di euro. Chiederemo di collaborare a regioni, province e comuni in questo nostro progetto per portare wifi nei 40 mila edifici, certamente nelle 10-15 mila scuole, sedi centrali e così via, wifi che servirà per i docenti, servirà per la didattica, servirà per le lavagne interattive multimediali che sono già presenti in un numero di 30 mila nelle scuole, i primi 5 mila, le prime 5 mila scuole, cioè la metà, che chiameranno e diranno siamo pronti, mandateci i tecnici, vogliamo tanto il wifi, avranno immediatamente il wifi. Altre scuole che diranno ma come funziona, chiameranno il numero verde, il ministero sta mandando mail circolari a tutte le scuole per dire guardate che per tutti c'è, i primi 5 mila avranno il wifi già entro quest'anno. Parliamo ancora di scuola, in oltre 50 città italiane, gli studenti hanno costruito azioni di mobilitazione per evidenziare la fase in cui la condizione di studente diventa sempre meno sostenibile e sempre più costosa penalizzando le famiglie a basso reddito. A Roma l'iniziativa ha avuto luogo presso il Museo di Arte Moderna. Oggi a Roma, come in altre 50 città in Italia, proviamo a portare il nostro distenso contro le politiche di questo governo che tagliano i fondi alla scuola pubblica, all'università pubblica, per chiedere un diritto allo studio vero. Mentre il governo lancia le nuove misure sulla scuola digitale, gli studenti non ci stanno perché secondo loro i problemi da risolvere sono ben altri. A Roma e in altre 50 città, studenti dei licei e delle università appartenenti alle associazioni Rete della Conoscenza e Coordinamento Link si sono fatti sentire. Oggi siamo in piazza nel Lazio, in 50 città in Italia, per rivendicare un welfare studentesco veramente nuovo e veramente migliore perché crediamo che un libero accesso ai saperi debba essere garantito a tutti quanti. Quindi andremo prima a portare davanti al trasporto pubblico, all'utenza del trasporto pubblico il problema di come il trasporto non sia a misura di studente, a chiedere che ci siano agevolazioni per tutti gli studenti in sede, fuori sede e pendolari e andremo davanti a un museo di questa città per rivendicare il libero accesso anche a quelle forme di cultura non formale che sono importantissime per noi. Hanno protestato occupando mezzi pubblici e musei per manifestare contro Italia i fondi per il diritto allo studio, contro la difficoltà di accesso per i più giovani alla cultura fuori dalle scuole e contro gli eccessivi costi dei mezzi pubblici per gli studenti pendolari fuori sede. Gli studenti romani chiedono, oltre a sconti ad agevolazioni, l'adeguamento degli orari di bus e tram a quelli di scuola e università e il potenziamento del trasporto pubblico. I ragazzi hanno indetto la campagna Liberi Tutti, una raccolta di firme per chiedere quello che chiamano un nuovo welfare studentesco che non escluda la scuola pubblica dalla formazione di qualità ma al contrario ne aumenti le risorse. Dopo i mezzi pubblici il blitz al Museo d'Arte Moderna. La cultura è un bene comune e un diritto di tutti, spiegano gli universitari del coordinamento LINC. Non vogliamo usufruirne gratis soltanto nelle settimane promozionali. Ovviamente questo è soltanto l'inizio. Noi da qui allo sciopero generale vogliamo creare un percorso per riportare i diritti in piazza perché in questo paese si parli di cultura, di accesso libero alla cultura, quindi non soltanto a poche settimane gratuite, ecco perché siamo qui, ma tutti i giorni accesso alla cultura, trasporti gratuiti per tutti gli studenti, indipendentemente siano in sede o meno, ripristino in più investimenti in scuola e in istruzione. E la protesta non si ferma. Il 12 e 13 maggio i sindacati scolastici sciopereranno contro le prove in balsi, introdotte da quest'anno anche alle superiori. Presentato presso il Consiglio regionale il progetto per una serie di iniziative dedicate alla giornata mondiale delle vittime dell'Amianto che ogni anno viene celebrata il 28 di aprile. Ogni anno in questa data viene riproposta la proposta di legge presso il Senato della Repubblica del senatore Felice Casson ed altri per arrivare a risolvere definitivamente il problema Amianto. In Italia sono 4.000 i morti da Amianto ogni anno e 23 milioni le tonnellate di Amianto sparse nel territorio nazionale. Diamo il servizio. In Italia per Amianto ci sono più di 4.000 morti all'anno e migliaia sono i malati. Una vera strage che avrà il suo picco massimo attorno al 2015-2020. Per sensibilizzare sul tema il 28 aprile di ogni anno a partire dalla 2004 si celebra la giornata mondiale delle vittime dell'Amianto. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica che l'Amianto non è un problema del passato, l'Amianto è un problema del presente, è un problema del futuro perché si prevede che il picco delle morti per Amianto sarà entro il 2015 e entro il 2020. E siccome l'Amianto è un'emergenza sanitaria, ambientale, è un'emergenza che riguarda tutta la popolazione, vogliamo ricordare a tutti che quindi il pericolo c'è ancora, non è stato eliminato e noi continuiamo a lottare perché crediamo che l'unica fibra di Amianto innocua è quella che non si respira. Sono 100.000 stimati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro i morti di Amianto nel mondo. La patologia principale è il mesotelioma, cioè che è un tumore prevalente della pleura che è la membrana che ricopre i polmoni, che viene colpita dalle fibre che hanno una forma agiforme. Naturalmente va considerato che queste fibre non si vedono, sono dell'ordine dei micron e quindi penetrano negli alveoli polmonari e in certe occasioni si cicatrizzano e quindi poi col tempo portano un'infiammazione, portano a colpire tutto il tessuto e quindi i polmoni stessi. Milano è una città, come purtroppo quasi tutte le grandi città, che ha impiegato un grandissimo quantitativo di Amianto e l'ha impiegato soprattutto nelle situazioni dove c'era bisogno di risparmiare. Quindi le case popolari sono uno dei luoghi dove è stato grandemente impiegato. Possiamo chiudere qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo previsioni del tempo, cielo sereno sui nostri comuni, temperature stazionarie. Nostro sito snus.it. Grazie, arrivederci. Grazie.